Ciao a tutti ragazzi di Alistia96 e oggi siamo qui sul mio desktop, non ho la webcam, non ho nulla perché parliamo di qualcosa di importante Allora, tipo 25 minuti fa, come vedete sotto lo schermo, è uscito un primo video di un'altra serie che Surreal Vrent stanno organizzando Che è una serie FTB, quindi hanno detto che avrebbero lasciato il server che è un tecnico tubo Perché comunque c'era poca gente che loggava, in effetti anche io in questi giorni non è che abbia loggato davvero tantissimo Anzi loggo più che altro solo per registrare perché sono davvero poco tempo E quindi sostanzialmente vi faccio una domanda su FB, su FB serve Facebook Ci sono tre iniziative che sarebbero abbastanza utili Quindi vorrei che voi rispondeste a queste iniziative e se volete datemi qualche altra iniziativa sotto nei commenti se ne avete E essenzialmente capisco Vrent e Surreal per il fatto che hanno cambiato server Il nostro server comunque rimarrà perso, non so fino a quando comunque E quindi spero che comunque alle 18 non perdiate comunque, comunque troppo comunque Non perdiate live in cui inizieremo finalmente questo torneo che ieri è stato rimandato a causa di problemi E che dirvi, spero che commentiate qui sotto e ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi!